Ciao, sono Viviana, la tua ostetrica e ti do il benvenuto nel mio canale. In questo canale parliamo di donne, di maternità, di gravidanza, di allattamento, di parto, di dolore del parto ma anche di menopausa, adolescenza, contraccezione o mestruazioni. Se sei interessata a ricevere informazioni su questi argomenti, semplicemente iscriviti al canale e clicca sulla campanella per essere avvisata ogni volta che un nuovo video verrà caricato. E oggi parliamo di episiotomia. Sarà un po' spaventoso come video, nessuna delle indicazioni che troverai all'interno del video sono da considerarsi indicazioni mediche. Ti invito sempre a seguire le istruzioni della tua ostetrica o del ginecologo e di parlare con loro direttamente di quello che riguarda la tua situazione specifica. Ma che cos'è l'episiotomia? Ne parliamo nel video. L'episiotomia è una manovra medica che viene eseguita sul perineo, quindi in una zona particolare ho un piccolo aiutante, te lo farò vedere ma non spaventarti, in una zona particolare che è quella zona tra la commessura inferiore della vulva e l'ano. Viene eseguita normalmente in una direzione medio laterale o laterale ed è una manovra che si fa in situazioni di emergenza alla fine del periodo espulsivo per rendere l'espletamento del parto più rapido. Tutto questo in termini del tutto molto medichesi, te lo rispiego in maniera più pratica. Può succedere che nella fase espulsiva del travaglio per una serie di eventi ci sia la necessità di rendere questa fase leggermente più rapida per tutelare il benessere del bambino o il tuo benessere e quindi parliamo di situazioni di emergenza e quindi si agisce in maniera meccanica eseguendo un taglio su questa parte del corpo, un taglio chirurgico per agevolare la fuoriuscita della testa. Questo significa, mi è sentito dire delle parole un po' strane, mi è sentito dire emergenza, in alcuni casi non tantissimi, solo se necessario, per cui l'episiotomia non deve essere una prassi eseguita di routine per agevolare o rendere più rapido il periodo espulsivo. Come viene eseguita? Ed ecco il modellino che è con me. Se questa è l'introito vaginale diciamo e questa è la commessura inferiore anche se non è perfetta perché potete capire che insomma non sono bravissima, viene eseguita con delle forbici in questo modo lateralmente, diciamo che l'ostetrica inserisce due dita all'interno della vagina e con due dita spinge contro la testa in modo da crearsi lo spazio e con l'altra mano invece esegue il taglio con le forbici. Questa situazione viene fatta, questa pratica viene fatta ovviamente con un anestetico locale che viene iniettato prima di eseguire il taglio, viene fatta con il consenso della mamma, cioè di solito la mamma viene assolutamente informata della manovra che si sta per eseguire ed è un diritto della mamma chiedere che questa manovra possa non essere eseguita. Perché si fa? Come ti ho detto per creare uno spazio tale nella parte esterna nel caso in cui il perineo sia eccessivamente rigido o ci siano delle condizioni di emergenza che prevedono appunto l'espletamento di un parto piuttosto rapido. L'episiotomia non è preventiva delle lacerazioni vaginali. Che cosa significa? Che pure eseguendo un'episiotomia potrebbe succedere che le lacerazioni ci siano ugualmente, non ci sono dati scientifici che dicano che facendo questa manovra si possa evitare l'insorgere di lacerazioni spontanee. L'episiotomia è un taglio completo di vari strati che prevede una sutura piuttosto complessa, è una sutura che si fa sempre in sala parto se non è necessario andare in sala operatoria ma che è molto più complicata di una sutura, di una semplice lacerazione. Come sapete le lacerazioni invece possono essere delle semplici slaminamenti della cute o interessare parzialmente la stessa aria magari semplicemente nella cute o interessando anche il muscolo o la mucosa insomma dipende dal livello di lacerazione ma qui stiamo parlando di episiotomia. Per cui potete sicuramente parlare con l'ostetrica che vi seguirà durante il travaglio e chiedere che questa manovra non venga eseguita se non è estremamente necessaria e ovvio che l'ostetrica che segue il travaglio sa se quella manovra è necessaria o meno e questo è insindacabile, ne potete parlare con lei ma ovviamente è la sua competenza che prenderà la decisione corretta. Potete chiedere nel momento in cui scegliete il luogo nel quale partorire se in quel luogo viene eseguita questa prassi di routine o meno. Vi ricordo che c'è anche sempre la possibilità di partorire nelle case maternità o a domicilio seguiti da un'ostetrica o due, dipende dai casi. L'episiotomia quindi richiede del tempo per la guarigione e spesso la ferita provocata alla fine dopo essersi rimarginata richiede di essere trattata come tutte le ferite chirurgiche, come tutti i tagli chirurgici in modo da evitare che il cheloide che si può formare al suo interno possa in qualche modo inficiare successivamente la propria vita sessuale o semplicemente per ridurre la sensazione dolorifica. Prendo l'occasione per dire che il dolore durante i rapporti sessuali dopo il parto, se parliamo del primo 40 giorni è una cosa differente, ma nei mesi successivi non è una cosa normale, è qualcosa che comunque deve richiamare la vostra attenzione per prendere un appuntamento e una consulenza personalizzata per agire specificatamente nella vostra situazione. Se vi è capitato di subire un'episiotomia oppure siete interessati a sapere di più sull'argomento, scrivetemi nei commenti e ne parlerò più approfonditamente. Se il video ti è piaciuto clicca il like e iscriviti al canale, cliccando sulla campanella verrai avvisata ogni volta che un nuovo video verrà caricato su questo canale. Ti saluto e ti ringrazio di essere stata con me in questo video e ti aspetto al nuovo appuntamento. Ciao!